La magia del Natale rivive nei vicoli di Castellabate con la settima edizione dei mercatili di Natale che si terranno dal 7 al 9 e dal 14 al 16 dicembre. L'iniziativa aprirà ufficialmente venerdì 7 dicembre alle 17 presso il Belvedere di San Costabile. Il percorso partirà da Piazza Perrotti, lateralmente al Castello dell'Abbate e si snoderà tra le scale che portano la Basilica Pontificia passando sotto il campanile e proseguendo sempre dritto fino alla piazzetta 10 ottobre 1123 per poi risalire nuovamente verso il Castello. Il percorso avrà anche copertura wifi gratuita. Gli orari di apertura il venerdì saranno dalle 17 alle 22, sabato e domenica invece dalle 10 alle 22, sempre con ingresso gratuito.